Eccomi, buongiorno dalla regia, dal supporto tecnico, mi hanno dato indicazione che possiamo avviare i lavori di questa sessione territoriale. Buongiorno a tutti, intanto grazie di partecipare a questa parte territoriale del convegno con cui oggi l'Istat ha voluto presentare i dati del censimento delle imprese condotto con anno di riferimento dei dati a 2018, ma con un focus speciale che è stato già documentato durante la sessione plenaria relativo ai risultati di due indagini speciali che sono state condotte durante questo periodo di emergenza sanitaria per provare a misurare l'impatto del Covid sulla situazione economica delle imprese. Come è stato detto nella sessione plenaria, presentiamo oggi dei dati frutto di una modalità nuova di svolgere i censimenti, i cosiddetti censimenti permanenti. In questo momento, come è stato detto, si sta svolgendo l'ultimo censimento tradizionale dell'agricoltura. A breve invece partirà la terza annualità del censimento della popolazione che si è interrotto appunto lo scorso anno, quindi quest'anno sarà in una sorta di dose raddoppiata di consistenza dei soggetti, delle unità coinvolte nel censimento, ed è in corso il censimento delle istituzioni pubbliche, mentre tra la fine dell'anno e i primi mesi del prossimo anno si avvierà anche il censimento permanente delle istituzioni non profit. A seconda delle unità di riferimento, ogni censimento ha una cadenza, diciamo, temporale differente, ma molto più ravvicinata ovviamente rispetto alla cadenza tipica dei censimenti che prima era decennale. L'elemento anche chiave che è stato detto in chiusura è proprio il territorio. Da sempre i censimenti hanno, diciamo, un valore aggiunto rispetto alle normali indagini, rilevazioni condotte perché hanno una portata di informazione territoriale molto spinta, anche a un dettaglio molto fine, questo consente proprio a chi deve utilizzare i dati di poter anche fruire di un'informazione puntuale sul territorio e quindi poter anche assumere decisioni funzionali anche appunto ai quadri informativi che emergono. Oggi insieme a me vi condurranno in questo viaggio tra i dati, due colleghe, la dottoressa Tronu Debora della sede di Cagliari e la dottoressa Mirto Annabia della sede di Palermo, che sono appunto le due sedi che fanno parte, che compongono il cosiddetto ufficio territoriale dell'Istat per la Sicilia e la Sardegna, di cui sono appunto responsabile. I contributi delle colleghe sono un frutto anche corale di un supporto anche di altri due colleghi appunto che hanno aiutato a confezionare i contributi, il collega Andrea Arru e il collega Francesco Paolo Rizzo e una volta completati diciamo questi primi due contributi che presenteranno in una chiave un po' integrata e trasversale il resoconto di alcuni report territoriali che sono stati appunto pubblicati da Istat a seguito dell'uscita dei dati di carattere nazionale per dare proprio conto della valenza territoriale dei dati del censimento delle imprese, ma anche di quello che di territoriale si può estrarre proprio da queste indagini speciali che sono un frutto, come già stato detto, una sorta di soppensieme poi di imprese che hanno risposto a un questionario composto da 20 domande che è stato somministrato proprio in due momenti, diciamo a maggio e a novembre del 2020 appunto per dar conto un po' dell'impatto del covid. La platea, diciamo, gli interventi sono completati poi dalle voci a dei soggetti che sono per noi dei partner istituzionali molto importanti, sia perché rappresentano appunto dei soggetti del sistema statistico nazionale, quindi i primi collaboratori che fanno parte appunto dell'unico sistema come l'Istat della ossatura proprio della statistica pubblica nel nostro paese, ma anche le comunità scientifiche, in primis l'università e quindi grazie ai relatori che poi contribuiranno ad arricchire anche l'analisi dei dati che viene presentata da primi due interventi, che sono appunto il dottore Giuseppe Nobile che è responsabile dell'ufficio di statistica e analisi economiche della regione Sicilia, siciliana, e la collega la dottoressa Francesca Spada che è un funzionario dell'ufficio di statistica della regione Sardegna, e il professore ordinario Adam Asmundo dell'Università degli Studi di Palermo. Il tracciato dei loro interventi un po' integra sicuramente quello che viene presentato nei primi due e tra l'altro c'è sia una chiave un po' predittiva anche di alcune traiettorie di proiezioni anche di impatto dell'emergenza sanitaria sul settore appunto delle imprese, ma anche come quello della dottoressa Spada uno spunto di riflessione anche di un utilizzo ragionato e integrato di fonti di dati per i decisori. Qui diciamo uno spaccato anche di contributo che visto che abbiamo composto insieme anche questa questa giornata mi sembra ricco di spunti anche di riflessione e quindi di eventuali anche domande e curiosità che possano provenire dalla platea dei partecipanti. Chiudo il tempo è proprio brevissimo perché siamo andati veramente lunghi quindi prego le colleghe di operare anche una sintesi rispetto alla presentazione che avevano immaginato di fare con una tempistica un po' più ampia e quindi passo la parola a Deborah Tronu che apre appunto questa sessione territoriale e grazie ancora per l'attenzione. Grazie dottoressa Vate, un saluto a tutti, condivido lo schermo. Dunque la presentazione che ho predisposto insieme con il collega Andrea Arro che ringrazio insomma per il supporto che mi ha dato sarà articolata in due parti. Una prima parte che fornisce un quadro sulla struttura e la dinamica di medio periodo del sistema delle imprese delle due regioni con un approfondimento su alcuni indicatori rilevanti per la dimensione competitiva delle aziende, quali gli aspetti legati al controllo, alla gestione aziendale, gli obiettivi strategici delle imprese, gli aspetti legati alla politica del personale e quelli legati al mercato di riferimento e principali fattori di competitività utilizzando ovviamente i dati raccolti con il primo censimento permanente delle imprese che si è svolto nel 2019. La seconda parte invece presenta un approfondimento su quelli che sono stati gli effetti della pandemia sull'attività e sull'andamento del fatturato delle imprese già presentate anche nella prima ampiamente anche nella prima parte dell'evento e anche quali sono state le scelte effettuate poi dalle imprese riguardo alle misure adottate rispetto alla gestione del personale. Utilizzando in questa seconda parte i dati forniti dalle indagini speciali Covid condotte appunto dall'Istituto l'anno scorso in due edizioni differenti a maggio e tra la fine di ottobre e la prima metà di novembre. Premessa importante, questa analisi integrata è stata resa possibile dal fatto che le due indagini condividono lo stesso campo di osservazione che è dato dalle imprese con almeno tre addetti che operano in tutti i settori produttivi al netto del settore dell'agricoltura, della pubblica amministrazione e dell'attività delle organizzazioni associative. Questo aspetto è fondamentale a sottolineare perché sappiamo bene che si tratta per la regione Sardegna di circa 24 mila imprese e per la regione Sicilia di 56.465 sappiamo bene che coprono poco più del 20% insomma della struttura produttiva, della struttura imprenditoriale delle due regioni ma hanno un peso invece più rilevante in termini di addetti circa due terzi, oltre i due terzi. Quali sono le principali evidenze che emergono insomma analizzando quindi la struttura produttiva di questo campo di osservazione per classi di addetti. Prima di tutto si ha una conferma, cioè l'importanza, nulla di nuovo nel senso, l'importanza delle micro imprese nella struttura produttiva di entrambe le regioni, circa l'85% del totale delle imprese regionali, infatti hanno meno di 10 addetti. Il risorio invece è molto più basso, invece il peso delle medie e grandi aziende che non supera l'1% contro un 2,3% invece rilevato a livello nazionale. Il peso delle micro imprese è confermato anche nella struttura occupazionale dove vediamo infatti che quasi il 50% degli addetti a livello regionale sono impiegati proprio nelle imprese più piccole, invece poco più del 25% degli addetti del totale regionale invece sono impiegati invece nelle medie e grandi aziende contro invece una media nazionale che è intorno al 44%. Rispetto alla dinamica di medio periodo cosa si osserva? Si osserva un calo delle imprese più consistente in Sicilia, meno 2,6% e invece in Sardegna abbastanza in linea con quello che si osserva a livello nazionale. Diminuiscono invece gli addetti, questo è in controtendenza con l'andamento nazionale dove si assiste invece a un incremento di poco più dell'1%. Invece la Sardegna perde circa 9.500 addetti, la Sicilia 16.500. Questa contrazione è dovuta soprattutto alla diminuzione dell'occupazione nell'industria, in particolar modo nel settore delle costruzioni, in entrambe le isole. Si assiste invece a una progressiva terzializzazione delle attività produttive con un peso occupazionale dei servizi che cresce in Sardegna di più 8 punti percentuali, in Sicilia di più 6 punti percentuali. L'espansione riguarda soprattutto i servizi non commerciali e in particolar modo è interessante rilevare la crescita rispetto al 2001 di un'attività che è stata particolarmente colpita dalla crisi indotta dalla pandemia che tutte le attività legate al settore del turismo, in particolar modo l'attività dei servizi alloggio e ristorazione che sia in Sardegna che sia in Sicilia coprono una quota rilevante della struttura occupazionale, il 19% in Sardegna e il 12% in Sicilia, e che hanno registrato una crescita decisamente rilevante, soprattutto in Sardegna, più 80% del 79% degli addetti in variazione rispetto al 2001, meno rilevante invece in Sicilia. Questo è un aspetto da sottolineare perché abbiamo visto nella prima parte dell'evento come gli elementi di fragilità di queste due isole sono strettamente legati proprio alla differenza, specializzazione e diffusione delle attività maggiormente colpita nel settore produttivi regionali. Passando all'analisi per provincia, ovviamente il grosso delle aziende sia in Sicilia che in Sardegna è localizzato nelle province più popolose, quindi Cagliari e Sassari per la Sardegna e Palermo e Catania per la Sicilia. La distribuzione degli addetti presenta un profilo molto simile a quello delle imprese con un peso maggiore per le province e sedi di comune e capoluogo, ossia Palermo per la Sicilia e Cagliari per la Sardegna. Passando invece alla dimensione, un'altra dimensione che riguarda il controllo e i modelli di gestione aziendale e coerentemente, non diversamente da qua, coerentemente con la struttura appena produttiva, appena presentata e con quanto rilevato anche a livello nazionale, si ha anche nel tessuto produttivo delle due regioni una prevalenza di imprese a controllo individuale o familiare, circa il 64%, un dato in linea con quanto rilevato a livello nazionale. La natura prevalentemente familiare investe anche, riguarda anche la responsabilità gestionale, dove solo un 5% delle imprese controllate da persona fisica o famiglia sono affidate a un manager selezionato all'interno e all'esterno dell'azienda o da altro soggetto. Quali sono gli obiettivi strategici delle nostre imprese? Sono degli obiettivi strategici prevalentemente difensivi, ma questo accomuna tutte le imprese, indipendentemente anche dalla dimensione in termini di addetti. Infatti circa, cioè oltre, circa l'85% sia per le due regioni in linea con il dato nazionale, dichiarano appunto di avere come principale obiettivo la difesa della propria posizione competitiva. Gli altri obiettivi invece più complessi invece sono segnalati da una quota in minore di imprese. Seguono per ordine di importanza, ampliare la gamma dei prodotti e servizi e rispetto alla dinamica, al profilo che si osserva a livello nazionale, è interessante osservare come entrambe le isole, la quota di imprese che dichiara di avere tra i principali obiettivi l'espansione dell'attività in Italia registra un forte divario, circa meno 16-11 punti percentuali rispettivamente per la Sardegna e per la Sicilia. Stesso profilo si osserva anche per le attività che riguarda l'espansione dell'attività all'estero, che è perseguito in una misura molto minore, circa 15% in entrambe le isole, contro 24% rilevato invece a livello nazionale. Passando invece al tema delle politiche del personale, soprattutto con riferimento all'acquisizione di nuove risorse umane, vediamo che nel triennio 2016-2018, che è stato caratterizzato anche da una dinamica positiva dell'occupazione, oltre la metà delle imprese sarde e siciliane hanno acquisito nuove risorse, una quota leggermente inferiore a quella rilevata a livello nazionale. Quali sono stati i principali ostacoli incontrati dalle imprese nell'acquisizione di queste risorse? Prima o fra tutto, e fra tutte ovviamente, l'eccessivo costo del lavoro, oltre il 50% delle aziende, sia in Sardegna che in Sicilia, punta il dito appunto sull'eccessivo costo del lavoro, seguono per ordine di importanza, strettamente collegato al primo ostacolo, l'incertezza sulla sussibilità futura dei costi e delle nuove risorse, e in terza posizione invece si colloca con circa il 25% delle aziende, una quota superiore a quella rilevata a livello nazionale, l'insufficienza di incentivi da parte dello Stato, o grosse difficoltà ad accedere, caratteristica insomma lamentata in stragrande maggioranza da tutte le imprese che operano nel mezzogiorno. Interessante osservare invece come la quota di imprese che lamentano di non aver potuto acquisire nuove risorse per la mancanza nel mercato di personale con le adeguate competenze tecniche e trasversali richieste, è una quota decisamente inferiore a quella rilevata a livello nazionale, meno 6 punti per la Sardegna, meno 8 punti in Sicilia per quanto riguarda le competenze tecniche, e vediamo come questo aspetto sia ovviamente più sentito dalle imprese di maggiori dimensioni. Quindi questa slide evidenzia come sostanzialmente ci sia una minor difficoltà da parte delle nostre imprese nel reperire personale con le competenze richieste, nonostante i ben noti e bassi livelli di istruzione delle due isole. Coerentemente con questo dato vediamo che anche gli investimenti in termini di formazione non obbligatoria delle aziende sono decisamente inferiori rispetto a quanto rilevato. Ecco, ora hai 5 minuti. 5 minuti, ok, quindi devo andare a livello. Quindi sono decisamente inferiori perché il 35%, 30% delle imprese con almeno 10 altetti hanno svolto attività di formazione diversa da quella obbligatoria. Anche con riferimento al mercato di riferimento, le due isole presentano un profilo molto simile, operano prevalentemente sui mercati locali o regionali e si rileva una scarsa operatività riferita ai mercati nazionali, quindi verosimilmente la condizione di insularità delle due isole insomma penalizza notevolmente il raggio d'azione delle nostre imprese e questo si rileva anche se si analizzano i dati insomma in termini di per settore di attività economica. Principali punti di forza sono soprattutto la qualità del prodotto, la professionalità e la competenza del personale e i prezzi di vendita. Invece altri aspetti come la capacità di diversificare, adeguare all'offerta della domanda sono ritenuti invece di fattori anche da una quota minore di impresa. Rispetto invece agli ostacoli alla capacità competitiva emerge un profilo leggermente diverso delle due isole dove si rileva una maggiore difficoltà delle nostre imprese connesse alla mancanza di risorse finanziarie, a un contesto sociale poco ambientale e adeguata carenza delle infrastrutture più rilevante soprattutto in Sicilia. Passando invece alla parte relativa agli effetti dell'emergenza sanitaria sullo stato di attività delle imprese, vediamo che è stato detto anche all'inizio della prima parte dell'evento, sia la Sardegna che la Sicilia sono state tra le regioni maggiormente colpite, probabilmente proprio perché per la tipologia di struttura produttiva caratterizzata da una maggiore specializzazione nei servizi che hanno subito maggiormente le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria, tanto è vero che la Sardegna per quanto riguarda lo stato di attività delle imprese dichiarato novembre registra la quota più elevata a livello italiano, il 4%, la Sicilia invece si colloca in linea col dato nazionale e quindi registra un minore impatto sull'operatività delle imprese chiuse, cioè fatto 100 totale delle imprese chiuse, il 42% in Sardegna è a rischio di chiusura definitiva, ossia non prevedeva di riaprire entro la fine dell'anno. Quali effetti si sono avuti sul fatturato, sull'andamento delle vendite? Anche qui le due regioni sono state fortemente penalizzate, circa due terzi delle imprese, oltre due terzi delle imprese, dichiara di aver subito una riduzione di fatturato e anche qui le due regioni registrano un triste primato, nel senso che soprattutto la Sardegna con la più elevata quota di incidenze di imprese che dichiarano di non aver realizzato fatturato, un 4% contro circa il 2% rilevato a livello nazionale, invece la Sicilia si colloca intorno all'1,7%. In Sicilia invece si rileva una delle quote più rilevanti invece di imprese che dichiarano la riduzione del fatturato maggiore del 50%, fra le più rilevanti a livello nazionale. Interessante osservare come questa dinamica, la stessa dinamica si è osservata anche con la rilevazione condotta a maggio rispetto al bimersi di marzo e aprile 2020, sebbene ovviamente gli effetti sul fatturato rilevati nella seconda edizione ovviamente abbiano dei livelli decisamente inferiori. Infine, quali strategie hanno adottato le imprese? Il 40% riguardo alla tutela del lavoro, il 40% quindi una quota ancora rilevante ma decisamente inferiore rispetto a quella rilevata a maggio, che si attestava intorno al 60%, quindi il 40% delle imprese hanno fatto ricorso alla cassa integrazione e guadagno, anche gli strumenti di supporto del costo del lavoro. In Sardegna si rileva maggior ricorso a misure di contenimento del personale, rinvio delle funzioni e mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato. In Sicilia invece un minore utilizzo delle misure temporanee per ridurre il costo del lavoro, come le fere, la riduzione di ore e dei turni, ma un maggior ricorso ai licenziamenti. In entrambe le isole la quota di imprese che dichiara di aver utilizzato ricorso anche alla formazione aggiuntiva è leggermente superiore insomma al dato rilevato a livello nazionale. In tutto sono circa il 70% le imprese con almeno tradetti che hanno adottato almeno una misura di gestione del personale, una quota in linea con quanto è emerso a livello nazionale, ma è inferiore rispetto a quanto rilevato a maggio. Quindi questi dati insomma sottolineano quanto le due isole insomma siano state particolarmente corpiti dall'effetto della pandemia, proprio per le caratteristiche stesse della struttura produttiva delle due isole particolarmente specializzate in settori legati al turismo e al commercio e anche per le caratteristiche della struttura produttiva caratterizzate da una prevalenza di micro imprese con una scarsa operatività nei mercati sovranazionali e sovranazionali. Io avrei concluso e ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie Deborah. L'intervento successivo è in continuità con la presentazione appunto fatta da Deborah Trono perché le colleghe hanno sostanzialmente esplorato i report territoriali che abbiamo, che l'Istat ha pubblicato, sono stati 21 appunto che sono disponibili sul sito dell'Istat, sono articolati all'interno appunto in vari sottoparagrafi e quindi le colleghe hanno suddiviso sostanzialmente i temi trattati dal report in un'ottica appunto trasversale per il territorio anche poi valutando su queste stesse tematiche gli esiti delle due rilevazioni di cui abbiamo parlato, queste appunto speciali. Un elemento aggiuntivo anche sul perché l'Istituto anche si è orientato sempre di più in questi ultimi anni ad una modalità anche nuova di esplorare e censire unità economiche, istituzionali oppure di famiglie. Il motivo è anche per ridurre il cosiddetto fastidio statistico, no? Questa riduzione anche delle unità rispondenti risponde anche a un dettato del codice delle statistiche europee e quindi con un investimento anche di carattere metodologico grazie anche allo sfruttamento e alle integrazioni dei registri di cui l'Istituto dispone. Tenete conto che questo è un processo molto antico possiamo dire, molto in là nel tempo, se si pensa che il primo esperimento del censimento intermedio delle imprese risale a 1996, quindi l'Istituto ha perseguito per tanti anni, ovviamente grazie anche agli sviluppi tecnologici, questa traiettoria proprio dello sfruttamento dei dati di archivi amministrativi valorizzati in chiave statistica, integrandoli e poi chiaramente rivolgendosi alle unità rispondenti con numeri più ridotti di unità di appunto coinvolti nelle indagini per poter anche ridurre appunto il cosiddetto fastidio statistico di risposta ai vari questionarii e tra l'altro le imprese sappiamo che sono un soggetto abbastanza chiave per la risposta appunto al patrimonio informativo che l'Istat poi, di cui l'Istat appunto dispone. Passo la parola adesso alla collega Anna Piamirto che prosegue appunto in questo viaggio tematico dei dati sul settore delle imprese, trattando in particolare i temi dell'innovazione, della finanza, delle tecnologie, queste traiettorie di sviluppo appunto dettate da alcuni elementi, parametri rilevati dal censimento e poi un tema focus speciale che è stato trattato per le due regioni che è quello della sostenibilità. A te Anna Pia, la parola. Grazie, condivido lo schermo. Allora, questo intervento appunto come già anticipato è stato confezionato insieme al collega Paolo Rizzo, entrambi lavoriamo appunto alla sede della Sicilia, dell'ufficio territoriale per la Sicilia e la Sardegna. Gli argomenti, i temi di questa presentazione li ha appunto anticipati la dottoressa Abate, continueremo quindi questo percorso iniziato appunto dalla dottoressa Tron attraverso quindi in qualche modo l'approfondimento di alcune tematiche nei due ambiti principali che sono appunto il censimento permanente e la situazione delle imprese durante appunto l'emergenza. Quindi volgeremo inizialmente la nostra attenzione sull'innovazione per continuare con la finanza e approfondiremo alcuni aspetti legati alle tecnologie digitali ma anche alle nuove traiettorie di sviluppo intese proprio come un approfondimento sulla strategia S3, appunto quella della Smart Specialization e poi faremo un approfondimento specifico per la responsabilità sociale, sostenibilità ambientale e sicurezza. Alcune di queste tematiche verranno anche affrontate con riferimento proprio all'indagine che è stata effettuata per le imprese durante il periodo della pandemia. Allora, il primo di questi argomenti riguarda proprio i progetti di innovazione, in particolare notiamo subito come le imprese Sard e quelle siciliane che sono state impegnate in progetti di innovazione sono circa il 30%, quindi circa una impresa su tre con una quota che è lievemente inferiore al benchmark nazionale. Se volgiamo la nostra attenzione ai settori di attività economica vediamo che l'innovazione più diffusa è quella tra le imprese che offrono servizi non commerciali con riferimento al dato della Sicilia appunto che saranno le barre gialle per tutta la presentazione. invece dati sul settore del commercio quindi per la Sardegna con le barre in blu hanno visto prevalere appunto la quota di imprese. La parte destra del grafico invece ci dà uno spaccato delle imprese con utilizzo di piattaforme digitali che in questo caso sono in quota piuttosto contenuta ma in linea comunque con la media Italia quindi al di sotto del 10%. Con riferimento alle fonti di finanziamento, argomento interessante già trattato appunto dai relatori della sessione plenaria in parte, qui ci focalizziamo in particolare sull'autofinanziamento che rappresenta la fonte di finanziamento più diffusa tanto per le imprese Sarde che per quelle siciliane addirittura oltre 7-8 imprese su 10 con delle quote che sono anche quindi le ho vedete nella parte destra del grafico che sono anche diciamo più rilevanti rispetto al benchmark nazionale. Il tradizionale canale bancario invece quindi il credito bancario rappresenta la fonte di finanziamento prevalente esterno con una prevalenza del credito bancario a medio e lungo termine rispetto a quella breve termine. In questo caso la preferenza accordata dalle imprese siciliane e Sarde è comunque più contenuta rispetto al benchmark nazionale e lo vedete appunto in termini di punti percentuali. Infine anche il 10% delle imprese ricorre al leasing e factoring con delle quote che sono piuttosto in linea con il dato nazionale. Le motivazioni del ricorso ai finanziamenti esterni sono principalmente le esigenze di liquidità per oltre la metà delle imprese in questo caso abbiamo escluso quelle finanziarie ci siamo focalizzati con quelle oltre appunti 10 addetti in questo caso quindi abbiamo che per oltre la metà delle imprese viene accordata la preferenza a questa tipologia di motivazione al secondo posto c'è il finanziamento di investimenti per l'ampliamento della capacità produttiva con una quota anch'essa rilevante un primo fattore di criticità invece viene registrato in funzione degli investimenti legati alle tecnologie digitali che in qualche modo appaiono modesti se confrontati con le altre motivazioni. Parliamo invece delle tecnologie abilitanti argomento interessante e innovativo che si rivolge proprio a quelle attività ad alta intensità di conoscenza ad alto investimento in ricerca e sviluppo a cui corrisponde una forza lavoro altamente schillata in particolare per la Sardegna hanno prodotto tecnologie abilitanti il 5% delle imprese e le hanno utilizzate il doppio di queste quindi circa l'11%. Anche per la Sicilia abbiamo un trend di questo tipo con quote lievemente superiori quindi abbiamo il 7% delle imprese che produce tecnologie abilitanti e il 12% che le utilizza. All'aumentare della dimensione aziendale e lo vediamo anche da queste barrette in grigio si rileva un aumento della quota di imprese che producono e che utilizzano tecnologie abilitanti ma cresce il gap quindi cresce il divario rispetto al dato italiano soprattutto per le imprese di dimensione più elevata. Con riferimento al settore di attività economica da rilevare effettivamente che le imprese che producono e quelle che utilizzano sia in Sicilia che in Sardegna tecnologie abilitanti sono prevalentemente presenti nell'industria rispetto al settore dei servizi e il gap con il dato nazionale in questo caso è piuttosto elevato soprattutto nell'industria in senso stretto. Per quanto riguarda invece le aree di spinta all'investimento notiamo come oltre la metà delle imprese sia in Sicilia che in Sardegna è effettuato almeno un investimento. I settori in cui si concentra fondamentalmente questi investimenti sono innanzitutto il capitale umano e la formazione è un elemento di interesse al secondo posto vi sono le tecnologie e la digitalizzazione da registrare qui una quota veramente limitata in attività di ricerca e sviluppo anche in questo caso inferiore rispetto al dato nazionale. Quali sono state le conseguenze della digitalizzazione? Uno diciamo dei temi fondamentali che ha voluto in questo caso esplorare. Allora, le principali conseguenze sono state sicuramente la maggiore facilità di condivisione di informazioni all'interno dell'impresa e nell'acquisizione di conoscenze dall'esterno quindi per oltre il 60% delle imprese con oltre 10 addetti si è fatto ricorso appunto a una maggiore facilità di condivisione di informazioni per il 35% invece una maggiore efficienza produttiva. Per la Sicilia invece tali quote sono state pressoché diciamo similari. L'ultimo argomento invece riguarda proprio quello della sostenibilità della responsabilità sociale e della sicurezza. In questo caso sottolineiamo come le quote delle due regioni per tutte le azioni sono sempre di qualche punto percentuale superiori alla media nazionale e come uno dei fattori principali è stato proprio il miglioramento del benessere lavorativo per il 70% delle imprese e al secondo posto la riduzione dell'impatto ambientale anche in questo caso per circa 7 imprese su 10. I comportamenti sostenibili sono cresciuti all'aumentare della dimensione dell'impresa. Con riferimento invece ai dati provinciali e quindi al cartogramma possiamo vedere come innanzitutto a livello diciamo a livello regionale 8 imprese su 10 in Sardegna e in Sicilia hanno avviato almeno un'azione di sostenibilità dei valori che sono in qualche modo in linea con il dato nazionale. A livello provinciale invece per la Sardegna si registra quindi qui la colorazione è più scura il dato di Taglieri con un valore sopra la media regionale oltre che nazionale ma anche per la Sicilia i territori con una più diciamo intensa azione di sostenibilità ambientale responsabilità sociale e sicurezza sono i territori di Trapani e di Ragusa in particolare le province. L'ultimo argomento che riguarda il focus su imprese e responsabilità sociale ha riguardato la classificazione delle tipologie di iniziative in proprio categorie che riguardano ad esempio le iniziative sportive nel caso della Sardegna che hanno avuto il principale ambito di intervento per il 12% delle imprese con una quota anche superiore rispetto al dato nazionale e inoltre le iniziative di contrasto invece alla povertà e al disagio sociale e umanitarie sono proprio quelle che si sono in qualche modo distinte per le imprese della Sicilia con una quota in qualche modo lievemente superiore al dato nazionale inoltre possiamo notare nella parte centrale del grafico come oltre la metà delle imprese Sard e siciliane ha considerato abbastanza rilevante o molto rilevante la sicurezza del territorio e anche la dotazione infrastrutturale quindi gli aspetti della sicurezza in qualche modo sono stati apprezzati e ritenuti fondamentali di più rispetto a quelli della competitività la seconda parte dell'intervento verte invece su gli andamenti appunto delle i profili delle imprese con riferimento alla all'indagine Covid in particolare la seconda che è stata effettuata a cavallo tra ottobre e novembre del 2020 in questo caso sono stati ripresi un po' gli argomenti della prima parte del focus e quindi gli strumenti per soddisfare il fabbisogno di liquidità al primo posto abbiamo l'accensione di un nuovo debito bancario con il 39% delle imprese Sard e il 34% delle imprese siciliane al secondo posto in questo grafico abbiamo la quota di imprese che non ha fatto ricorso ad alcuno strumento ed è anche questo diciamo interessante da evidenziare in linea quindi tre imprese su dieci in linea con il dato nazionale e il ricorso alle attività liquide presenti in bilancio ha costituito anche questo un elemento fondamentale soprattutto per le imprese della Sardegna sulla rotazione dei prestiti ha già diciamo anticipato alcune informazioni appunto il dottor Faramondi questa mattina quindi si è fatto riferimento alla quota di imprese che hanno richiesto prestiti assistiti da garanzia pubblica e sono circa quattro imprese su dieci e tra queste otto oltre sette quindi quasi otto su dieci ha in qualche modo ricevuto il prestito per l'ammontare che era stato richiesto questo aspetto riguarda proprio le conseguenze dell'emergenza sulla comunicazione digitale è uno degli aspetti fondamentali qui in questo grafico dove abbiamo messo in ascissa la percentuale di adozione diciamo ante covid in ordinata il numero di punti percentuali quindi la crescita che c'è stata di questi temi ci fa vedere che in realtà su tutte e quattro le tematiche c'è stata una particolare espansione come era stata un po' anticipato anche questa mattina su alcuni territori del mezzogiorno in questo caso sia per la Sicilia che per la Sardegna quindi c'è un'espansione della connettività a banda ultralarga che vediamo nella parte destra del grafico sia per la Sardegna soprattutto ma anche per la Sicilia e sono già con percentuali di adozione ante covid diciamo piuttosto sostenute il secondo aspetto riguarda proprio l'espansione della rete internet in mobilità per entrambe le isole e in questo caso c'è stata anche qui un'espansione di oltre appunto dieci punti percentuali e poi il terzo aspetto riguarda l'incremento molto consistente della comunicazione interna dell'azienda come appunto per esempio le videoconferenze la messaggistica anche questo anche per questo c'è stata una crescita veramente sostenuta pur partendo scontando una situazione di partenza un po' diciamo deficitaria l'ultimo aspetto ha riguardato proprio il potenziamento delle infrastrutture in termini di apparecchiature per il lavoro a distanza appunto come per esempio lo smart working anche in questo caso pur partendo da una situazione diciamo non ottimale quindi con una percentuale di deduzione addirittura inferiore in certi casi al dieci per cento si sono avuti però degli incrementi di venti e oltre punti percentuali le ultime slide riguardano proprio gli effetti causati dall'emergenza da covid sull'impresa in questo caso anche degli effetti in qualche modo anche prospettici per la Sardegna vediamo che l'ottantacinque per cento delle imprese segnala almeno un elemento che condizionerà in maniera negativa la propria attività quindi la quota complementare il quindici per cento non prevede effetti particolari per la Sicilia le quote sono similari leggermente più bassa la quota di imprese che ha segnalato almeno un elemento negativo quindi pari all'ottantuno per cento e la quota complementare pari al diciannove per cento in questo caso da segnalare semplicemente gli effetti principali che sono proprio i rischi operativi di sostenibilità delle attività in quote come vedete sempre superiori rispetto al benchmark nazionale la riduzione della domanda a seguito dell'attuazione dei protocolli sanitari questo è sicuramente un fattore un fattore chiave e anche la manifestazione dei problemi di liquidità così diciamo sono i tre fattori principali con riferimento alle strategie che l'impresa ha adottato o sta in qualche modo negli ultimi mesi valutando di adottare per la Sardegna vediamo che il cinquantotto per cento dichiara di aver pianificato una forma di reazione quindi una forma di strategia diciamo all'emergenza le quote per la Sicilia sono pressoché similari quindi il complementare quindi il 42% per la Sardegna e il 40% della Sicilia dice di non avere valutato di mettere in campo nessuna strategia per contrastare gli effetti ma volgendo la nostra attenzione effettivamente su quali strategie da mettere in campo le strategie di espansione sono state fondamentalmente l'ampliamento dei canali di vendita oppure la produzione di nuovi beni o servizi preferita in qualche modo da circa il 12-13% delle imprese le strategie di riorganizzazione hanno assolutamente diciamo fondamentali in questa fase dell'emergenza hanno riguardato la riorganizzazione dei processi e degli spazi di lavoro ma anche l'intensificazione delle relazioni proprio delle partnership esistenti a livello imprenditoriale le strategie di contrazione significative per le due isole per le due grandi isole sono la riduzione sostanziale del numero dei dipendenti che in qualche modo ha penalizzato più diciamo della del resto della meditalia questa è l'ultima slide sì le criticità dell'impresa hanno riguardato fondamentalmente alcuni temi che abbiamo già trattato prima cioè i principali ambiti in cui l'impresa effettivamente ha riscontrato delle criticità queste criticità hanno ostacolato in qualche modo naturalmente la propria la messa in campo dei piani di sviluppo i piani di sviluppo in particolare di breve periodo risultano compromessi per tre imprese su quattro sia a livello delle due isole sia a livello diciamo nazionale quindi per la Sardegna ancora una volta è proprio la necessità di liquidità e la gestione di fonti di finanziamento rappresentare la criticità rilevante per circa il 36% 37% delle imprese vedete con un ghetto rispetto al dato nazionale è piuttosto sostenuto pari a 8 punti percentuali la riduzione della domanda turistica della domanda domestica risulta anche questa fondamentale per il 35% delle imprese per la Sicilia la situazione è un po' invertita anche se i due fattori sono sempre gli stessi a essere prediletti e cioè la vendita sul mercato nazionale rappresenta la criticità maggiore al secondo posto la necessità di liquidità citiamo una via ti invito a chiudere l'intervento sì anche il mutato contesto normativo e organizzativo rappresenta proprio una criticità rilevante e quindi in qualche modo queste due modalità soprattutto per le imprese della Sardegna vedete appunto qui il ghetto nazionale ho terminato semplicemente con questa slide che in qualche modo espone quali sono i link ai dati quindi sia i due data warehouse dei censimenti permanenti sia i rapport territoriali sul censimento permanente delle imprese e soprattutto le ultime due indagini appunto Covid durante l'emergenza sanitaria per le imprese grazie a tutti e buon proseguimento grazie Annabia scusate se faccio l'antipatica che vi blocco mentre state parlando ma purtroppo appunto per chiudere in un tempo congruo devo necessariamente farvi un po' di fretta in effetti Annabia ha concluso con una slide che dà conto proprio del panorama dei link disponibili proprio per gli utenti gli utilizzatori finali del patrimonio informativo dell'Istat giusto ieri in una chiacchierata telefonica con il dottore Rapiti che ha coordinato la sessione plenaria e che è il direttore centrale delle statistiche economiche discutavamo proprio di quanto vasta siano gli spunti di valorizzazione del patrimonio informativo che l'Istat produce ma soprattutto perché grazie a queste innovazioni le produce con molta più tempestività rispetto al passato e quindi con ovviamente un valore di utilizzo notevolmente superiore rispetto a quanto avveniva prima tant'è che l'Istat è uscita con i primi risultati del censimento della multiscopo delle imprese a soli quattro mesi dalla conclusione della rilevazione ovviamente per un censimento prima ci volevano almeno tre anni due tre anni per poter fruire del patrimonio informativo e comunque il dettaglio diciamo queste presentazioni hanno dimostrato anche la la forza la potenza informativa di questi dati perché comunque restano nonostante impostati su indagini non totali restano con un valore di confrontabilità nel tempo e nello spazio quindi diciamo le colleghe hanno anche affrontato il fenomeno diciamo dei dati di struttura e di evoluzione delle imprese in chiave appunto temporale ma anche appunto dando un dettaglio fino a una dimensione anche appunto provinciale adesso diamo come nel programma la parola al territorio anche se territorio siamo anche noi ma diciamo ai nostri partner che contribuiscono anche loro a costruire insieme a noi l'architettura proprio dell'informazione pubblica della statistica ufficiale e quindi passo la parola al dottor Nobile che presenterà il suo contributo il responsabile del servizio statistica e analisi economiche della regione Sicilia e quindi presenterà il suo contributo al dibattito a te la parola Giuseppe Sì io provo a condividere lo schermo di Leate il nostro così il nostro crucio è sempre quello di diciamo non perderci pezzi di realtà quindi di fronte al campo di osservazione che ha scelto Istat per il censimento permanente abbiamo pensato di fare un confronto con la fonte principe per l'analisi congiunturale sulle imprese che i dati che si lasciano nei cameri di commercio allora vi devo confessare che questa slide che sto presentando sono diciamo leggermente diverse da quelle che ho conferito per la cartella diciamo comune perché mi sono accorto che c'erano degli errori quindi ho fatto una cosa non tanto ortodossa ho preferito modificare i numeri che erano da correggere piuttosto che presentare dei numeri sbagliati quindi vedrete appunto una versione per me ancora più recente rispetto a quella che ho già fatto circolare ovviamente mi riprometto di fornire subito la versione ultima appena sarà possibile all'organizzazione il confronto quindi è fra il censimento permanente delle imprese e modi imprese in Sicilia i due campi di risoluzione come sapete sono diversi noi abbiamo la per quanto riguarda il censimento permanente l'indagine ha attinto a un campione su Asia di tutte le imprese dei settori scelti un campione per le imprese comprese tra 3 e 19 addetti e poi ha messo tutte le imprese con più di 19 addetti invece modi imprese è l'anagrafe di tutte le imprese ovviamente catalogate in termini amministrativi anche quindi attive le gisciate società di capitale e quant'altro il vantaggio di usare modi imprese come tutti gli addetti ai lavori sanno è che ci consente una verifica tempestiva della struttura economica di un territorio e quindi è una fonte che va continuamente presa a riferimento per l'analisi congiunturale ovviamente i dati censuari hanno tempi diversi comunque il confronto qui è fatto sugli anni di riferimento dell'indagine quindi 2011 e 2018 questo è il quadro della Sicilia e le due diciamo i numeri delle due situazioni sono posti a confronto come dicevo per i settori che sono stati scelti quindi come sappiamo l'indagine campionale del censimento esclude come del resto l'archivio Asia esclude l'agricoltura abbiamo l'attività dell'industria e dei servizi ovviamente l'industria è suddivisa nelle grandi aggregazioni della manifattura l'industria senza scelto che comprende anche le utilities le costruzioni poi il commercial il grosso dettaglio comprende anche la riparazione di autoveicoli e poi c'è la grossa area dei servizi non commerciali che è stata diciamo aggregata qui in un unico blocco e l'analisi di questa tabella ci dice chiaramente che la realtà produttiva ci offre un quadro diviso in due blocchi appunto tutte l'industria e il commercio formano un aggregato che ha variazioni alle due date per scelte negative i servizi non commerciali hanno invece variazioni positive questo è il quadro della Sicilia le variazioni sono alle due date più forti per quanto riguarda il censimento permanente quindi 15,4 per i servizi non commerciali e 14,7 invece per move imprese quindi la prima cosa da notare è che le due fonti ci dicono che le variazioni sono disegno uguale ma l'intensità è leggermente diversa se noi consideriamo il particolare campo di osservazione del censimento permanente che ci dice che riguarda le imprese con tre e più addetti ogni differenza deve essere considerata alla luce di questa dimensione di questa differenza dimensionale fra i due fonti il censimento permanente quindi tendenzialmente ci dà il quadro delle imprese un po' più consistenti move imprese ci dà invece il quadro di tutte le imprese comprese quelle micro quindi diciamo questa differenza abbiamo cercato di rinciacciarle anche a livello nazionale il quadro nazionale ci dice più o meno le stesse cose i servizi non commerciali sono cresciuti di più nel campo di osservazione del censimento permanente di meno negli aggregati di nuove imprese però c'è la differenza tra il blocco che dicevo prima cioè industria più commercio che formano un unico blocco di dati negativi invece servizi non commerciali che formano un blocco positivo andiamo a vedere anche la diversa intensità tutta la scusate se torno un attimo indietro tutto il campo di osservazione del censimento permanente rispetto ai dati nuove imprese per la Sicilia vale il 19,5% quindi un'aggregazione di imprese con tre più addetti che è il 19,5% del totale e invece a livello nazionale questo aggregato vale il 26,4% quindi una cosa più consistente che dà un'idea anche della dimensione media delle imprese nella nostra regione andiamo a fare un'analisi più in dettaglio per le imprese in Sicilia che appartengono al blocco delle attività che dicevo prima sono risultate in calo abbiamo l'eccezione delle utilities cioè le aziende che lavorano la fornitura di energia elettrica gas eccetera e quelli che riguardano invece i servizi alla volettività come reti fognari attività di gestione dei rifiuti eccetera abbiamo una crescita la crescita è anche nazionale ed è più consistente direi nella micro dimensione perché abbiamo un aumento consistente di tutte le aziende che stanno nel campo nuove imprese è un po' meno consistente la crescita di tutte le aziende che stanno nel campo del censimento questo è uguale anche a livello nazionale può spiegarsi solo con la forte i cambiamenti politici intervenuti in questo settore pensate alla depurazione o allo trattamento dei rifiuti quindi ci sono state tutta serie modifiche l'aumento della raccolta differenziata che è sensibile a livello nazionale ma anche a livello regionale stiamo arrivando anche in ritardo ma ci stiamo muovendo anche in Sicilia quindi questo ha fatto sì che è moltissime moltissime stiamo parlando sempre di alcune centinaia di imprese però sono aumentate di numero e questo è anche il numero nazionale per il resto invece abbiamo un calo consistente delle costruzioni un calo della manifattura e in Sicilia il grave la cosa grave è che questo calo è più sensibile nella dimensione diciamo tendenzialmente maggiore quindi nel campo di osservazione del censimento dove torno a dire che c'è stato un aumento cioè torno a dire che si tratta delle imprese con tre addetti e più comunque nel compresso io ho calcolato che i settori diciamo che sono rappresentati in questa slide sono calati nel campo di osservazione di nuove imprese dal 52 al 50% in quello invece del censimento c'è un calo più consistente per quanto riguarda la Sicilia i dati a livello nazionale più o meno sono di questa di questo ordine invece se andiamo a vedere le imprese che afferiscono al campo dei servizi non commerciali noi vediamo una crescita una crescita che sia nazionale che regionale con alcune particolarità che vale la pena di segnalare noi abbiamo attività immobiliari di alloggio ristorazione informatica sanità e servizi di supporto alle imprese che hanno un aumento maggiore su nuove imprese quindi dimensione piccola invece le attività artistiche di istruzione e altre hanno una maggiore crescita nei dati censuari quindi una crescita che vale la pena sottolineare perché diciamo interessa la fascia un po' più grande di dimensione quindi sono da segnalare queste sensibili variazioni che sono come vedete più forti in Sicilia rispetto al dato nazionale questo incremento dei servizi non commerciali che va ovviamente più attentamente studiato per capire i dati qualitativi di queste imprese e le ragioni di questa crescita si spiega anche con l'andamento del valore aggiunto settoriale ho messo a confronto le spezzate relative al valore aggiunto totale al valore aggiunto dei servizi non commerciali in Sicilia in Italia dove si vede che il livello del 2011 è ancora non raggiunto in Sicilia perché siamo in una generale recessione in una generale caduta dell'attività che non consente ancora di recuperare il livello di attività del 2011 però come vedete la tenuta dei servizi non commerciale realizza un distacco dal resto delle attività sensibile cioè abbiamo una tenuta in termini di valore aggiunto di queste attività che sensibilmente è più forte di quella del resto delle attività economiche a livello nazionale questo distacco è inferiore c'è una spezzata che lascia diciamo intravedere un aumento dei servizi non commerciali che è di poco superiore a quello del resto delle attività economiche brevemente arriviamo alle conclusioni per dire che diciamo se si vuole riflettere quanto i dati del censimento riflettano rispecchiano i dati di nuove imprese bisogna dire come dicevo all'inizio che c'è un'identità dei segni di variazione ma ma c'è diversa intensità delle tendenze il campo di osservazione è molto diverso tra le due aree in Sicilia l'81% si cade al di fuori del campo di osservazione del censimento in Italia il 76,5% e come dicevo a Dambieri un po' scherzando e citando un grande economista questa è la misura un po' della nostra ignoranza rispetto diciamo al bisogno informativo che abbiamo su un'area produttiva e su una parte importante della struttura economica regionale in cui diciamo regna diciamo un po' l'ignoranza e un po' la sottodichiarazione da parte dei soggetti che gestiscono queste attività questo è ovviamente diciamola considerare invece le utilities dicevamo appunto sono una parte in crescita però l'industria regisce un calo nell'isola più forte che nella dimensione nazionale e nella dimensione diciamo superiore a due addetti che rende più grave i caratteri del non regionale diciamo è da considerare in termini ancora più negativi i servizi non commerciali come dicevo manifestano una crescita che anche all'affetto della riduzione delle attività delle opportunità occupazionali negli altri settori perché se consideriamo la crescita dei servizi di alloggio e registrazione che è particolarmente forte in Sicilia nella dimensione molto piccola ci dà un'idea della prevalenza della microdimensione aziendale in questo settore di attività economica però ci dice anche che le attività diciamo le tendenze di crescita dei servizi di alloggio e ristorazione ma anche delle attività di incertinimento e distruzione vanno comunque ad essere identificate come quelle parti dell'economia regionale che in cui giocano un ruolo molto importante l'industria culturale del turismo nel modellare lo sviluppo regionale anche se ovviamente questo non può essere l'esclusiva della dello sviluppo regionale questo è quanto e vi restituisco la linea grazie grazie Giuseppe per il contributo e anche diciamo per la specificazione anche nell'utilizzo di fonti diverse quello che noi sempre raccomandiamo agli utilizzatori ma ovviamente tu sei un utilizzatore esperto di dati che nel momento in cui si utilizzano fonti diverse è chiaro che bisogna mettere in evidenza le differenze che ci sono tra queste fonti proprio nella comparabilità appunto dei dati quindi altrimenti diciamo si rischia appunto di falsare con le analisi e quindi di arrivare comunque a conclusioni non corrette quindi insomma il rigore sicuramente metodologico nell'approccio di confrontare dati di fonti diverse è certamente uno anche dell'asset principale anche del nostro istituto grazie per il tuo contributo Giuseppe adesso dalla Sicilia passiamo ripassiamo nuovamente alla Sardegna con la dottoressa Francesca Spada che nella presentazione del suo contributo almeno visualizzando insomma le slide che erano costarie condivisa credo che intenda proprio mettere in evidenza proprio il valore dell'informa dell'integrazione proprio tra più fonti per potere anche essere da sostegno come dovrebbero fare appunto gli uffici di statistica del Sistan per le amministrazioni di appartenenza quindi per aiutare per sostenere il decisore nell'orientamento appunto delle proprie politiche e certamente il periodo dell'emergenza sanitaria è stato un periodo in cui si è visto quanto importante sia disporre di dati territoriali in fondo il cambio dei colori o tutto il piano delle vaccinazioni si sta basando proprio su dati e indicatori che hanno un valore differente da regione a regione quindi diciamo le scelte poi della politica sono differenti a seconda delle differenti situazioni che si registrano nei vari territori e quindi mette in evidenza la dottoressa Spalla proprio l'importanza anche di una chiave di integrazione di più fonti e di supporto appunto al decisore pubblico a lei la parola a te Francesca la parola per intervento grazie condivido anch'io lo schermo intanto ringrazio l'ISTAT per questo invito per questo importante momento di confronto sulla sui dati del censimento e delle indagini speciali che sono state fatte in particolare nel periodo proprio del 2000 per anni noi ne abbiamo approfittato le abbiamo utilizzate sono state estremamente utili quindi in questo momento di confronto che ci vede insieme intorno a questo tavolo virtuale possiamo anche renderci conto di quanto le informazioni che voi avete messo a disposizione come ISTAT si integrino perfettamente e abbiamo supportato le nostre analisi che come la presentazione che sto andando a fare illustrerà mettono in evidenza quanto sia importante il supporto conoscitivo anche e non soltanto nella fase di costruzione degli strumenti a supporto della collettività intesa come cittadini e imprese allora per andare direttamente al SODO vi dico che oltre a questa attività di supporto chiaramente che è la nostra mission istituzionale abbiamo chiaramente come mission quella di fornire le informazioni statistiche integrate a supporto delle politiche ma anche della collettività e questo ha richiesto un grosso impegno come immagino un po' per tutti ma anche per il nostro intero ufficio e per tutti i colleghi di Statistica regionale elettorale che ringrazio proprio per il supporto e il sostegno in tutte queste attività che abbiamo svolto insieme quest'anno e abbiamo fatto in modo di rendere queste informazioni disponibili per la collettività nella pagina del nostro sito istituzionale che si chiama Sardegna Statistiche al quale si accede anche attraverso l'home page della RAS cliccando sulle sezioni dedicate Statistiche Covid-19 all'interno del quale sono state elaborate tante informazioni grazie anche alle fonti di statistica ufficiale come l'ISTAT ma anche sulla base di dati dell'INPS ma anche sulla base di dati di altre informazioni per esempio di altre indagini su altri argomenti e quindi siamo riusciti a fare dei quadri di approfondimento intanto un quadro socio-economico che descriveva la situazione pre-Covid e adesso in fase di aggiornamento poi informazioni specifiche sul sistema produttivo sul turismo sul mercato del lavoro che sono gli argomenti di cui parliamo oggi e anche approfondimenti sulle misure del sostegno del rendito l'ultimo sulla violenza sulle donne e sull'argomento della mortalità con il quale abbiamo cercato di seguire le pubblicazioni dell'ISTAT per dare ai cittadini regionali sempre un aggiornamento costante sull'impatto della mortalità a livello nazionale ma soprattutto di carattere regionale quindi abbiamo pubblicato tutta una serie di approfondimenti che trovate nel sito del quale oggi parliamo molto brevemente la prima cosa su cui voglio soffermare la mia attenzione è stato cosa è successo a marzo 2020 lockdown tutti a casa la prima esigenza informativa forte è stata quella di dare conto di come era costituito il sistema produttivo regionale dare un ordine di grandezza di tutte quelle imprese in forma di imprenditore individuale libero professionista e lavoratore autonomo che sarebbero stati colpiti immediatamente dall'effetto del lockdown anche in termini diretti proprio di liquidità di carenza di liquidità stiamo parlando quindi di quell'insieme di imprese individuali nel senso istat cioè compresi i lavoratori individuali e anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti chiedo scusa che rappresentano facendo l'analisi sui dati a nostra disposizione al momento e cioè l'archivio Asia e considerando quindi solo industria e servizi ben il 66,5% dell'intero insieme delle imprese che nel momento di lockdown si sono fermate nel lockdown nazionale fatto salvo le eccezioni che conosciamo insomma ma l'informazione che ci veniva richiesta non era soltanto ma quante sono ma era anche ma com'è il volume di fatturato cioè quanto sono grandi cioè qual è l'intero montare di fatturato che denota la loro dimensione e le caratterizza in termini diceva cosa dovranno rinunciare di che tipo di imprese stiamo parlando quindi sempre grazie all'archivio Istat Frame che purtroppo al momento nel nostro patrimonio informativo era giornato al 2014 ma poi ho rifatto le stime non sono cambiati moltissimo i numeri e si tratta cioè all'interno insieme delle imprese regionali all'interno di questi interni insieme delle imprese regionali ben il 49,5% delle imprese e nel 2017 il 49,9% delle imprese è costituito da imprese con un fatturato quindi con ricavi inferiori ai 50.000 euro l'anno 50.000 euro l'anno è un importo molto ridotto cioè proprio l'idea di un'impresa che fattura 50.000 euro l'anno e da quel risultato deve poi ancora pagare i costi della produzione e quindi anche i costi del personale possiamo facilmente intuire quanto queste imprese sono imprese piccole e piccolissime un po' tutto quello che è stato detto stamattina anche dalla dottoressa Trono è ribadito adesso in un certo senso anche dal collega Nobile che ha messo in evidenza il fatto che uscendo dal sentiero del censimento e andando a vedere le imprese di piccole e piccolissime dimensioni tirate fuori per esempio da nuove imprese c'è tutta una platea di imprenditori molto piccoli che comunque hanno visto la loro attività bloccata e la diminuzione dei ricavi che comunque ha impattato nettamente sulla loro attività costante cos'è successo inoltre nella nostra analisi è un successo che abbiamo voluto vedere quanto queste fossero soltanto imprese di natura libri professionisti imprenditori individuali e anche lavoratori autonomi ma se ci fossero dentro questo livello di fatturato così basso anche imprese tra virgolette più strutturate e attraverso l'analisi dei nostri archivi in quel momento aggiornati nel 2017 sui bilanci delle imprese quindi società che depositano il bilancio abbiamo potuto vedere che al di sotto dei 100.000 euro di fatturato il 26% delle imprese ricade in questa soglia cioè i 100.000 euro di fatturato per una società di capitali è un importo piuttosto contenuto ma la cosa ancora più importante è che pur appartenendo a questa categoria di società strutturate all'interno della classe delle imprese al di sotto dei 100.000 euro il valore mediano dei ricavi è pari a 40.000 euro cioè stiamo parlando di imprese strutturate in forma di società di capitale che fatturano come tendenza centrale 40.000 euro all'anno quindi comunque stiamo parlando di imprese piccole sebbene all'interno della categoria delle imprese più strutturate quindi questo era un warning per i nostri amministratori di concentrare la loro attenzione non soltanto su alcune categorie di forme giuridiche ma anche sulle imprese più strutturate che avrebbero potuto avere delle difficoltà concrete di liquidità che poi sono state registrate dalla nostra indagine fatta tra marzo e novembre sulle imprese in stato di crisi andando rapidamente su alcuni aspetti importanti la prima cosa è stata scusami se ti interrompo ma dovresti poi mettere a fuoco le evidenze principali dell'intervento sì immediatamente immediatamente la cosa più importante è che nella prima fase di lockdown abbiamo avuto il 37% dei settori e soltanto il 37% dei settori erano rimasti attivi e nella seconda fase di lockdown siamo arrivati a un 70,6% quindi per andare direttamente ai punti salienti quello che noi abbiamo potuto notare guardando attraverso nuove imprese abbiamo visto che tendenzialmente la dinamica delle imprese in termini di iscrizioni e cessazioni presenta un calo importante intorno ovviamente nel secondo trimestre ma poi sostanzialmente vista lungo l'intero arco dell'anno non si vedono grandi cambiamenti perché? perché questi cambiamenti a detta anche di tutti gli altri diversi ricercatori li vedremo alla fine dell'intero o probabilmente del 2021 quando saranno finite le fasi di apertura e chiusura quindi questo per quanto riguarda le imprese per quanto riguarda invece la parte del mercato del lavoro che è stata comunque espressa messa in evidenza anche prima vediamo che a partire dall'analyse dei dati vediamo che intorno la variazione al 2020 presenta un calo delle assunzioni totali sia per l'Italia ma anche per la Sardegna piuttosto importante rispetto allo stesso 2019 e vorrei farvi notare anche che non sono solo le assunzioni a tempo indeterminato ad avere un calo ma anche le assunzioni a termine che vedete il grafico in basso a sinistra ma quello che è altrettanto importante è vedere che anche le assunzioni stagionali hanno avuto un brusco calo nel 2020 come pure le assunzioni in somministrazione questi sono quei tipi di contratti che sono strettamente legati a quei settori economici che come dicevamo prima durante la presentazione della dottoressa Tron che sono legati anche agli aspetti più turistici della parte produttiva del territorio grazie sempre a un lavoro Istat che ha potuto darci l'opportunità di confrontare l'andamento delle presenze sul territorio nazionale e regionale e vediamo che l'andamento delle presenze nei mesi del lockdown è molto simile anche otticamente siamo in grado di vederlo tra cioè nei mesi da gennaio agosto la pubblicazione dell'Istat presenta i dati sono molto molto simili ovviamente nel periodo aprile e maggio abbiamo punte del meno 98% per quanto riguarda gli italiani e gli stranieri e così via ma tutto questo è legato al periodo del lockdown quindi la prima domanda che ci poniamo è ma questo poi è stato possibile recuperarlo successivamente e dai dati che noi abbiamo a disposizione perché i dati nazionali ancora non sono disponibili nei dati provvisori che abbiamo a disposizione devo dire che purtroppo ancora non abbiamo recuperato tutte le presenze che è rispetto al 2019 e questo non può che avere un impatto piuttosto importante rispetto alle nostre attività produttive considerato anche che permettetemi tornare un attimo solo indietro a questa slide dove per concludere vi metto in evidenza un po' come ha fatto il dottor Nobile questo aspetto allora fatto a 100 il valore aggiunto del totale delle attività economiche il grafico in alto a sinistra nel 2000 vediamo che fino al 2019 il totale delle attività economiche non ha ancora nella Sardegna ovviamente rispetto all'Italia non ha ancora recuperato il gap che c'era rispetto al periodo della crisi dal 2008 al 2014 quindi ad oggi che siamo nel 2019 questi dati sono nel 2019 ma noi siamo nel 2021 ragionevolmente non siamo particolarmente cioè questi dati non tengono ancora conto di quello che è successo con il Covid quello che mi interessa molto farvi vedere che ha anticipato la dottoressa Tronu è questo processo di terziarizzazione del sistema produttivo regionale che è una cosa di carattere nazionale ma maggiormente in Sardegna avviene maggiormente in Sardegna e come possiamo notare dai due grafici dell'industria in senso stretto e delle costruzioni la linea blu con i quadrattini mostra fatto centro il valore aggiunto prodotto dall'industria tra il 2000 e il 2019 c'è una perdita di più di 40 punti percentuali stessa cosa per le costruzioni e queste sono informazioni importanti da tenere in considerazione perché per quanto i servizi invece crescano in Sardegna al contrario invece della Sicilia cresce un po' più velocemente il commercio rispetto agli altri servizi questo aspetto è piuttosto rilevante perché se i servizi erano quella parte che ci consentiva di crescere nel valore aggiunto questo stop questo lockdown che ha investito maggiormente la parte dei servizi più che l'industria purtroppo ha degli effetti abbastanza importanti per il nostro territorio di cui è indispensabile tenere conto l'ultimo aspetto per concludere per per dirvi quali sono gli auspici rispetto al futuro quello che succederà intanto la prima cosa la più importante è che ci sia il ripristino della fiducia dei cittadini e dell'impresa verso un sistema socio-economico che tuteli sia le imprese ma anche i cittadini anche con dei paradigmi sociali ed economici di sviluppo un po' diversi rispetto al passato cioè il mondo è cambiato e sta cambiando e quindi anche tutto il sistema produttivo sta cambiando ed occorre anche che ci sia un mutamento degli imprenditori stessi ma anche della pubblica amministrazione che peraltro comunque devo dire nella nostra esperienza si impegna particolarmente a supportare le imprese quindi ci vorrebbe anche un ripristino della fiducia in questo senso nulla quindi noi come ufficio di statistica vi ringraziamo ancora per averci invitato a fare questo confronto e siamo a disposizione anche con tutte le statistiche del nostro sito che molto mutuano anche dalle vostre ma integrate in un'ottica più generale grazie grazie mille Francesca un intervento interessante appunto è strutturato in una maniera come dicevi tu integrato rispetto all'offerta dei dati che Istat mette diciamo a disposizione e di cui voi siete grandi fruitori ma ovviamente integrandola con informazioni più puntuali di cui disponete grazie anche al lavoro che ciascuna amministrazione fa sui propri archivi perché alla fine se l'Istituto riesce a disporre di grandi registri affidabili e tematici lo è grazie al fatto che a livello di singolo punto di acquisizione del dato questi registri già nascano in una maniera comunque strutturata affidabile e all'interno delle amministrazioni importanti come le regioni è anche importante che avvenga questo processo di consapevolezza che anche le regioni dispongono di basi di dati amministrativi importanti che chiaramente se trattate con rigore e con metodo possono dare quel valore aggiunto anche in chiave statistica per compensare in qualche modo magari il gap informativo che non ritrovano a livello anche di dettaglio territoriale nelle informazioni disponibili chiudiamo il percorso fatto con il professore Adam Asmundo che a proposito di traiettorie cerca di individuare nel suo intervento alcune tendenze legate anche soprattutto al periodo dell'emergenza dell'emergenza sanitaria che ha avuto chiaramente ancora più l'impatto negativo in economie che sono diciamo tendenzialmente fragili e dove come si diceva alcuni settori che erano che sono comunque settori importanti nell'economia delle nostre due regioni sono stati anche quei settori maggiormente colpiti dalle chiusure del lockdown e quindi di conseguenza anche dalla possibile ripresa e riapertura appunto di queste attività a te Adam la parola grazie Francesca spero che mi sentiate che mi sentiate bene ringrazio l'istat porti innanzitutto per il lavoro che fa come lo fa da sempre diciamo abbiamo bisogno di fonti certe di fonti confrontabili tra loro nel tempo nello spazio e questa è certamente la base del nostro lavoro io devo dire ho la fortuna forse di poter dire pochissimo nulla del tutto quasi mi so che praticamente tutto è stato detto stamattina troverò semplicemente ad aggiungere qualche considerazione alle cose appunto che sono state dette inserisco la mia la mia presentazione per essere visibile da qualche istante a tutti ok e vado subito agli argomenti queste vabbè le fonti cito ovviamente tantissimo l'istat faccio un attimo riferimento alle cose che dirò l'espansione dell'economia non osservata è uno dei punti che tratterò per qualche istante tutto sarà per qualche istante di innovazione sviluppo e futuro sostenibile parleremo anche molto è stato detto prima di me la preziosistica Francesca Spada ha parlato di teferizzazione di un aspetto poi parlerò in particolare perché è legato anche all'espansione che abbiamo osservato nuova industrializzazione maneggere nuove configurazioni dinamiche territoriali che è successo è successo che effettivamente nel momento in cui ecco ci siamo no siamo andati troppo scusate troppo avanti ne parliamo un attimo sì visto che è stato considerato il punto di partenza pensavo di aver invertito la slide quindi vi scusarete per questa cosa di carbonitina questi sono dati istat sono dati stati relativi al 2018 e qui l'altro giorno il proprietario di Cazzo Derao diceva ma siamo sicuri che non si stia espandendo il non osservato criminale tra l'altro probabilmente una tendenza nella crisi all'espansione di queste cose c'è parallela una tendenza all'immersione di una parte del sistema perché perché in difficoltà le persone sono dettive e le avevo detto prevale un'economia di servizio di servizio di prossimità molto spesso se possiamo usare questo termine sia nel commercio sia nei servizi appunto alle famiglie le servizie anche alle imprese il non fatturato e tutto il resto possono essere in crescita non lo sappiamo è una tendenza possibile perché è uno dei piccolismi di difesa del sistema delle condizioni credite abbiamo tentato con un'analisi di questo fenomeno a livello regionale Adam scusami forse dovresti avvicinarti di più al microfono alzare il volume del microfono perché ti sentiamo con un volume un po' basso io provo a parlare più forte perché in realtà non ho un microfono vediamo vediamo se così forse fanno tutto quanto sì così va un po' meglio grazie va un po' meglio ok grazie a voi per avermelo detto perché il problema della comunicazione rimane si parlava prima dei dati in modo di imprese poi magari ne riparliamo un attimo anche qui tra questi settori in crescita l'agricoltura quelli che non hanno subito grosse 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 battute nel resto della crisi dell'agricoltura alimentare l'industria farmaceutica queste cose qui ci sono delle 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 realtà di non osservazione piuttosto importanti quindi quando andiamo a analizzare i dati sulla crescita i dati sulla struttura dei bilanci tutte queste cose qui qualcosa rischia di sfogirci e soprattutto nelle parti appunto che possono registrare le dinamiche anche importanti questo pone un problema che magari dipende dalla fine di democrazia di partecipazione di sostenibilità dal punto di vista finanziario per esempio dei processi perché c'è una domanda di supporto pubblico c'è una domanda di assistenza c'è una domanda di finanza pubblica che naturalmente nel caso in cui l'economia sia parzialmente sommersa si può realizzare un impatto c'è una discrezia una differenza tra soggetti tra soggetti che non danno ma chiedono inserisco questi argomenti perché appunto me lo posso permettere è un lusso che li posso permettere non so se avete notato la quadra dei servizi professionali non ho notato nella slide precedente che la condizione della Sardegna non è molto diversa da me in Sicilia se non probabilmente per alcuni aspetti servizi professionali questo si trova naturalmente alle slide i servizi professionali una quota rilevante un quinto dei servizi professionali nell'isola tende appunto a non rimanere osservato come con il raggiunto prodotto in questo lavoro ci eravamo rifatti con il raggiunto alla crisi partita del 2007-2008 e la pressione del PIL una leggera probabilmente ripresa qualcosa ma sempre al di sotto del 2007-2008 a partire dal 2014 che è stata notata prima anche da Giuseppe Nobile e accanto a questo una notata anche da Francesca la pressione degli investimenti fissi che ha significato sostanzialmente una destrutturazione del sistema industriale perché? perché questi investimenti in realtà nei quali aggiungo una nota di servizio la Sicilia a volte peggio della Calabria da un punto di vista dell'endogenità del regressore se posso usare il nostro tecnico tira giù la quota mezzogiorno e tira giù la quota Italia cioè sia a livello nazionale che analizziamo dei risultati non in tutto soddisfacenti è sempre una media può darsi che ci sia una regione che vanno molto meglio e altre appunto come in questo caso le sue di cui stiamo parlando che vanno decisamente peggio tuttavia con quella notazione che un quinto di quel peggio mediamente un quinto di quel peggio è invisibile o scherzamente invisibile se no la lista perché ce lo segnala l'esercito dunque condiziona i risultati medi del paese il discorso sulle imprese attive è stato preso diverse volte questa mattina e anche dai noteri precedenti naturalmente bisognerà vedere iscrizioni e cessazioni se il dibattito può essere molto ampio il punto delicato qui è che associando alla destrutturazione che abbiamo visto prima nel sistema produttivo adesso aspetteremo un numero di imprese attiva invece no questo numero perdonate perdonate le decisioni visiva questo numero appare in crescita dal 2014-15 quindi non si investe o si investe in maniera leggera o si investe in maniera invisibile o si investe in altre cose e probabilmente il tipo di investimento che si realizza è più il software che il hardware per i perici cioè non sono tanto macchinari quanto sono più attrezzature non è tanto più industria pesante quindi questo ci conferma il senso di una destrutturazione del sistema per come l'abbiamo conosciuto quindi un'evoluzione nel sistema non del tutto in negativo ma anche con una nuova crescita una nuova emergenza di settori di imprese di soggetti che realizzano cose diverse rispetto a prima non più le stesse quindi non abbiamo più una meccanica una siderologia abbiamo qualcosa di tutto il settore dei servizi che si muove in maniera sensibilmente diversa aggiungo un particolare che mi fa piacere per ragioni diciamo sociali e politiche notate che è presente anche nella regione sardegna che una parte di questa nuova imprenditoria di questa imprese attiva è rappresentata dalla impresa degli immigrati immigrati che è il secondo determinato meccanismo di filiera che in Sicilia si interaggono in Cina Bangladesh e Sri Lanka tendono a rappresentare qualcosa di per esempio la Cina in questo momento nella ristorazione sta appunto sta pesando parecchie con meccanismi di finanziamento che non sono soltanto quelli del dedicamento bancario ma quindi diciamo sono esempi che vanno fatti che vanno riportati e che vanno in qualche modo a incoraggiare anche quella imprenditoria locale quella della voglia di fare imprese locale che ci può essere che talvolta può essere un'eccanismo di sfiducia e quindi non lanciarsi meccanismi di sfiducia che agiscono in maniera però particolare ovvero una delle tipologie di imprese che abbiamo visto cresceranno in periodo è quella delle imprese immobiliari che è successo abbiamo visto un PIR calante investimenti di silordi calanti abbiamo visto un PIR crescere un PIR tra queste sì ci sono anche queste che fanno perché perché in realtà il risparmio bancario è cresciuto l'esame finanziario è cresciuto i depositi i dati della Banca d'Italia anche l'ho rivolto qui i dati della Banca d'Italia si erano fortemente questo nell'acqua della crisi a partire dove era sempre di una op motivi prudenziali motivi cautelativi è cresciuto il deposito bancario sono cresciuti i risparmi e questi risparmi hanno preso una via non tanto dell'investimento produttivo non direttamente almeno dell'investimento produttivo perché qualcuno che ha investito c'è e anche fortemente quelle sono sempre delle medie e ha investito in immobili popolazione non in crescita per lo meno popolazione autottome non in crescita ma in crescita compravendita di appartamenti che si fa ci si fa si fanno delle cose ma probabilmente sì questo sì perché effettivamente le imprese turistiche prendono queste al dettaglio che l'informale che ne accresce molto l'informale tuttavia che non porta dal punto di vista della fiscalità diciamo della fiscalità generale non porta da tutti i benefici quanti ne potrebbero portare ma di tempo lì è un tema di fatto sociale interessante da prendere importante da prendere e da portare avanti anche in altri contesti dunque la conclusione a questo punto del discorso potrebbe essere c'è un paradigma un nuovo paradigma per la crescita probabilmente sì cioè non cresceremo più facendo industrializzazione all'anni 50 ma al contrario puntando su quello che effettivamente il mercato chiede questa accelerazione si ha in due direzioni una quella della immersione dell'impresa o comunque del tentativo di sfuggire a una rilevazione di sfuggire a una presenza che però è anche l'impossibilità all'espansione verso l'espansione molte imprese hanno dichiarato noi ci difendiamo troviamo a difenderci puntiamo le nostre strategie sui meccanismi di difesa questo naturalmente è comprensibile anche le portiere hanno il 51% dei meccanismi di autodifesa per non essere affondate ma in realtà la parte espansiva la parte di sviluppo è quella sulla quale dobbiamo necessariamente puntare e in quale direzione bene stiamo vedendo che i temi della sostenibilità sono temi tutt'altro che tutt'altro che per belle anime cioè significano ristrutturare completamente il modo di produrre cioè produrre in maniera ecologicamente sostenibile produrre calore produrre energia produrre prodotti ecologicamente sostenibili che non rappresentino rifiuti un domani cioè chiudere a un certo punto qui ci sono altri aspetti normativi importanti proibire di fare delle cose o aver proibito essere proibiti di fare delle cose doverle fare in maniera estremamente diversa perché siano smaltibili o perché non siano rifiuti ecco questa è una sfida che per le nostre regioni è assolutamente alla portata è assolutamente accettabile perché noi produciamo già cose siamo fortemente concentrati in produzione di cose che hanno un impatto ambientale virtualmente più muscolo attacca le energie virtualmente minuscolo virtualmente minimo che possono essere molto apprezzate che possono essere molto apprezzate si parlava di e-commerce che possono essere vendute ovunque ci abbiamo scoperto con la loro a distanza e con intanto vi ringrazio per l'attenzione ma torno in video ho sbagliato qualcosa sono tutte cose che possiamo produrre con facilità senza incrostazioni industriali terrificanti come possono esserci in altre regioni del centro nord quindi le possibilità di crescita e di sviluppo le abbiamo e sono forti l'importante è dare un messaggio di fiducia certamente e cercare di intervenire sui meccanismi su quelle criticità che si diceva prima che possono impedire un percorso di sviluppo diciamo molto più rapido di quanto non è che le politiche del mezzogiorno non ci siano state non è che le politiche europee non ci siano state perché queste abbiano relativo successo perché non riescono a sviluppare veramente il loro potenziale evidentemente dipenderanno dagli attori di controllo di monitoraggio o ci siano dati degli obiettivi sbagliati questo francamente non lo vorrei credere che gli obiettivi fossero sbagliati che altre considerazioni che altre possibilità che altre forme di relazione di capitale sociale diciamo nel tutto cognitivo generano un rallentamento dei processi di crescita è certamente possibile e ci auguriamo che la crisi abbia diciamo dato una spinta possa dare una spinta verso una maggiore trasparenza verso una maggiore positività verso una maggiore solarità verso una maggiore gioia posso usare le sue espressioni nei processi di sviluppo vi ringrazio molto veramente per l'attenzione e per la pazienza grazie grazie Adam del tuo contributo grazie anche ai partecipanti che hanno atteso finora insomma per ci hanno ascoltato fino a questo a questo orario ovviamente la riuscita di qualsiasi cosa è il frutto anche di un contributo corale quindi intanto ringrazio tutti coloro che sono intervenuti oggi e che hanno partecipato ma per poter realizzare un censimento ci sono state tante strutture dell'istituto che si sono adoperate di iniziare dalla direzione di produzione la direzione della raccolta dati l'asset informatico della comunicazione ovviamente anche tutta la rete degli uffici territoriali e quindi chiaramente questo è il risultato anche di un lavoro fatto con cura anche da molti colleghi delle strutture territoriali dell'istat ma ovviamente per l'evento di oggi permettetemi di ringraziare la direzione della comunicazione che ha cucito ha coordinato l'organizzazione anche di tutte le otto sessioni e in particolare Michela Pacello che è la collega con la quale ci siamo messi in contatto in vari incontri anche virtuali per poter fare una regia comune a queste sessioni territoriali e ovviamente alla società che ha messo a disposizione la piattaforma che ci ha consentito insomma di dialogare oggi come anche in occasione dell'evento di presentazione dei dati del censimento della popolazione e quindi in particolare Carmela Parisi e la clarissa dei Collibus che è la collega dietro le quinte che ha fatto un po' da regie e da supporto tecnico alla giornata odierna quindi concludiamo così questa questa carrellata di dati chiaramente siamo disponibili ho visto che nella sessione diciamo delle domande non sono pervenute domande di chiarimento se dovessero pervenire via mail saremo noi diciamo che avremo cura eventualmente di girare i relatori se sono destinate diciamo a supporto e chiarimento di alcuni interventi i materiali verranno poi tutti condivisi insomma questi della sessione la sessione è anche registrata quindi ancora un grazie a tutti e alla prossima la prossima occasione i dati sono tanti da poter mettere a valore quindi mi auguro che ci potremo incontrare in un'altra occasione per poter dare un passo in più dare un contributo in più anche insomma al paese per dare spazio alle decisioni e delle decisioni coerenti in linea appunto con i dati che emergono grazie ancora grazie a tutti